Voi oggi volete bocciare, astenervi o scappare di fronte alla verità? Prendetevi le vostre responsabilità fino in fondo! Vi ricordate il decimo municidio sciolto per mafia? Ecco, noi oggi abbiamo presentato un atto concreto a favore del prefetto e della commissione prefettizia che sta ristabilendo in questo momento la legalità, ma anche del procuratore Pignatone, per cui l'abbiamo portato in aula, l'abbiamo fatto votare, un territorio dove sono stati scoperti i criminali e dove tutta l'amministrazione dovrebbe prendere posizione. Oggi questo documento ha visto scappare gli altri partiti. Oggi i partiti di destra e di sinistra, il Partito Democratico, Fratelli d'Italia, non hanno partecipato alla votazione. Ho assistito a qualcosa di incredibile. Gli esponenti degli altri partiti oggi hanno fatto le pulci a un documento così importante mentre avrebbero dovuto fare i loro partiti all'epoca di mafia capitale. Noi siamo convinti di dover andare avanti in modo deciso mentre gli altri partiti oggi scappano di fronte alle loro responsabilità.